Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 settembre, buona domenica a tutti quanti voi, chi è al mare se la goda, io fra poco arrivo a Roma per fare la puntata di domani lunedì, avremo la melone all'inizio, poi parleremo ovviamente dello scandalo della Lega, insomma parleremo di un sacco di cose di cui parleremo tra poco. Intanto i giornali di che cosa parlano oggi della scuola? L'Azo Elina, ministro della pubblica istituzione, dice alla Corriere della Sera, in un'intervista che evidentemente non aveva molti titoli da dare perché sostanzialmente non dice nulla, gli studenti in aula potranno tenere le protezioni, insomma io sapete come la penso sulla questione delle protezioni, però se uno vuole tenersi le protezioni se le tenga, non penso che ci sia qualcuno che lo possa impedire, anche se effettivamente a scuola potrebbe esserci qualche ordine, quindi se volete tenervi le mascherine tenetevele, anche se quel problema è esattamente l'opposto, cioè quando lasciare una socialità normale ai nostri figli. Sul messaggero il tema affascinante è quello degli insegnamenti, degli insegnanti fragili, cioè quelli che hanno delle patologie più di 55 anni, secondo quello che avrebbero studiato, avrebbero la possibilità di lavorare fuori dalle aule, negli archivi, nelle segreterie, eccetera. Però io mi chiedo e chiedo a tutti quanti voi che mi vedete sulla zuppa, ci sono, guardate i numeri, 8 milioni di studenti, 2 milioni tra insegnanti e non docenti, va bene? E questo è uno su quattro, scuola è lì per i nostri figli, immaginate un po' voi quanto dovrebbe essere efficiente. Ma in realtà si leggifera, si pensa, si considera la scuola soltanto per quei 2 milioni, o per la gran parte per la possibilità che i 2 milioni possano svolgere bene il loro lavoro. Ma in realtà il punto fondamentale sono gli 8 milioni di persone che vanno a scuola, cioè i nostri figli, per cui noi paghiamo i 2 milioni perché i nostri figli vengano educati. Perché vi faccio questa peppardella? Perché oggi noi ci stiamo occupando degli insegnanti fragili. Toc, toc! E gli insegnanti fragili hanno qualcosa a che vedere, per esempio, con gli studenti fragili? Sapete quante sono le famiglie che hanno necessità degli insegnanti di sostegno e quanti pochi insegnanti di sostegno ci saranno per il semplice motivo che gli studenti probabilmente che hanno bisogno del sostegno saranno anche quelli più difficilmente gestibili, con meno mascherine, meno distanziamento? Vedrete se gli invisibili 250-260 mila famiglie che avranno bisogno del sostegno, ovviamente in quel caso abbiamo un numero incredibile di insegnanti di sostegno ma che sono sempre poi alla fine, come succede, 2-3 anni e poi lasciano perdere. Insomma, il concetto è sempre il solito, viva il sindacato e le crescite sindacali, poi gli studenti vengono dopo. Quindi noi abbiamo bisogno di tre maestri per scuola elementare, non perché insegnino meglio, ma perché così triplichiamo il numero degli studenti. Ovviamente i professori saranno arrabbiatissimi con me, me ne fotto, perché tanto i professori che fanno il loro mestiere, e ce ne sono tanti, sanno quello che penso e quello che dico. Cirio, presidente della regione Piemonte, sulla stampa continua la sua battaglia! La battaglia è molto semplice, le famiglie sono degli irresponsabili, non ci possiamo fidare del fatto che loro misurino la febbre, la febbre deve essere misurata come nelle fabbriche dalle scuole. Benissimo. A parte questo principio molto liberale di Cirio, cioè che la responsabilità individuale, ovviamente però questa responsabilità individuale, cosa ti dicono i ben pensanti anche sulla zuppa? Dicono, eh vabbè, ma qua se tu non sei responsabile fai del male degli altri. Scusatemi, i ragazzini a 18 anni che bevono e vanno in macchina non sono responsabili e fanno male dagli altri? Mi sembra di sì. I ragazzini che vanno in palestra e imparano a menare e a uccidere non sono responsabili e uccidono gli altri? Cioè, se noi vogliamo pensare di mettere un poliziotto dietro ogni caso, ovviamente che risolviamo tutti i problemi, ma se non puntiamo alla responsabilità individuale pensiamo veramente a uno Stato che controlla tutto. Ma questo è difficile da spiegare ai miei amici che mi seguono sulla zuppa un po' illiberali e dicono che mi sono fuso. Mi sono fuso un cazzo. Il punto fondamentale è che questo Presidente della Regione, sapete che cosa ci ha detto? Ha detto che è una cosa poi tutto sommato anche poco invasiva. Le famiglie che devono scrivere sul diario che hanno misurato la febbre. Cioè è l'Italia delle carte. Quindi non vi lamentate se nelle vostre imprese, se nelle vostre aziende, non vi lamentate se il Governo ha fatto 5 autocertificazioni per uscire durante il lockdown. E la mentalità di Cirio, se Cirio avesse governato, avrebbe fatto esattamente come Conte. Io sono della mentalità per cui se uno esce, non c'è bisogno dell'autocertificazione scritta 5 volte ai sensi del DPR, eccetera. Se un genitore viene investito nella facoltà di misurare la febbre, lo deve fare e se non lo fa, saranno sue responsabilità. Come lo troviamo? Facciamo un caso a compione, ci inventiamo un modo. Ma le responsabilità sono individuali, non si devono de-responsabilizzare le famiglie. Vabbè, ma non glielo riesco a spiegare. Seconda grande tema della giornata è l'inchiesta di Milano. Caccia al tesoro per il fatto. Repubblica. In realtà prima pagina molto poco, il giornale che ha spinto di più sull'inchiesta. Spunta la fiduciaria targata Panama sui fondi della Lega. Questo è il titolo del Corriere della Sera. È falso. È falso, è semplicemente falso. Intanto la fiduciaria, come voi sapete, in Italia non ha nessun peso. Perché le fiduciarie sono semplicemente un velo in cui se uno vuole fare il cattivone la fiduciaria te la smontano in tre secondi. Anche se è residente a Timbuktu. Questa comunque era in Svizzera, era una fiduciaria a Panama, residente in Svizzera. Quindi te la smonta chiunque, come hanno dimostrato tutte quante le inchieste. Comunque la fiduciaria serve perché se Nicola Copporro si vuole comprare uno yacht, lo yacht è intestato alla fiduciaria e diciamo sui giornali forse qualcuno non lo sa. Ma invece in realtà chi vuole saperlo, Fisco e Polizia Giudiziaria, lo sanno in tre secondi. Ma comunque, insomma, la cosa bellissima è che adesso in tutto questo calderone, visto che la storia dell'acquisto di questo capannone a 400.000 euro, rivenduto 800.000 euro di tre commercialisti vicino alla Lega, evidentemente non è così forte come ci si aspettava, adesso si mette insieme nel calderone la fiduciaria, come hanno provato con Fontana, Panama, Svizzera e anche i 49 milioni imbertati dalla Lega. Leggete sempre il pezzo di Telese sul mio sito. Quindi spunta la fiduciaria targata panda sui fondi della Lega. Questa si chiama merda, come possiamo dire, piovere merda su un partito ed è tipico del nostro giornalismo di destra difendere gli inquisiti in genere indagati di destra. Oggi lo fa molto bene, come spesso avviene Fazzo sul giornale, in cui dice che ci sono tre cose che non quadrano. La prima è che tutta questa inchiesta nasce da un ricattatore, secondo Fazzo, e questo ricattatore avrebbe ricattato questi tre commercialisti, ha detto se non pagate io parlo, e ha parlato con la Procura. Poi una volta parlato con la Procura, la Procura è alla disperata ricerca di pezzi d'appoggio su quello che il ricattatore ha detto, che non ha trovato. Perché per esempio Uni, e sui giornali sta uscendo, l'ho sentito ieri al TG3, pagato dai contribuenti, è alla ricerca e questi soldi sarebbero serviti per il campagno elettorale della Lega. Minchiata! Perché gli stessi magistrati hanno cercato tutto il flusso di denaro, che da 400 è diventato 800 mila euro, quindi capirai che con 400 mila euro quelli sono diventati ricchi, beh, questi 800 mila euro, sapete che cosa c'è di nuovo? Non sono, hanno fatto tutti i tracciamenti, non c'è un euro che è arrivato alla Lega, ma il TG3 ieri sera, senza che nessuno si indigni, dice nulla sul fatto, no, fanno sentire il sospetto, il venticello del sospetto, i 49 milioni, poi c'è la Russia, poi ci sono i commercialisti, tutti questi indizi, secondo la cultura del sospetto tipica che piace ai nostri, porta la caccia al tesoro. E tra l'altro c'è un'altra cosa che dice Fazio, ma perché hanno chiesto l'arresto il 20 luglio con massima urgenza, il PM e l'arresto l'hanno fatto una settimana dalle elezioni regionali? È tutta così la giustizia italiana, spero di non essere mai, come possiamo dirvi, interessato da essa. I funerali di Willy è un dramma di cui ho parlato tante volte su questa nostra zuppa, oggi il tempo ha il titolo più strano rispetto a tutti gli altri, Conte, Lamorgese, Zingaretti, non perdono occasione per un po' di passerella. Questa è la tesi di Francesco Storace, ignorate le richieste della riservatezza della famiglia e il pezzo di Storace, devo dire, vale la pena di leggerlo, perché è probabilmente il pezzo oggi più fuori dalle righe rispetto a tutti quanti gli altri. Sulle tasse c'è una cosa stupenda che tira fuori il giornale, Sallusti. Devo dire, titola su quello e lo commenta, chiude là. E cioè questi geni del Ministero dell'Ambiente hanno fatto un sondaggio tra 327 persone, 327 persone, se aumentare le tasse sulla benzina, sul gasolio. E le 327 persone hanno detto di sì perché il gasolio è inquinante. Beh, dice Sallusti, non stupisce tanto il fatto in sé, cioè che aumentano le tasse, questo governo ha detto che le avrebbero ridotte, tutti sanno cosa vuol dire aumentare le tasse sul gasolio e che catena di effetti c'ha. Ma il metodo, cioè il sondaggio fatto sul Ministero con 327 suoni sono esperti. Fantastica. Questo è l'Italia demagogica e populista, non le minchiate che dicono gli altri. Tra l'altro oggi vedo un'intervista della Valle, ovviamente sul fatto, che non riesco a capire che stava tanto bene quando non parlava, invece della Valle va sul fatto e deve fare sempre il fenomeno. Conte va lasciato lavorare e valutato sul recovery plan. Immagino che gli vada bene come ha gestito tutto quanto quello che è successo fino ad oggi all'imprenditore della Valle. Lo trovo sempre coraggioso nel denunciare i cattivoni, e siamo a due, e probabilmente queste ne nascono anche dalle cosiddette amicizie della barchetta. Io penso che sia un grande imprenditore della Valle. Se si occupasse un po' di più delle sue aziende e meno di politica sarebbe meglio. Non dico che è un farinetti qualsiasi. Per carità, della Valle è un grandissimo imprenditore. Un sondaggio quindi sulle tasse, ve ne ho parlato, sarà contentissimo, perché sai chi fa lusso se ne frega ovviamente dell'aumento del diesel, un po' meno probabilmente i suoi amici marchigiani, i camionisti di tutta Italia, quelli che si occupano dell'alimentare. Ma la cosa stupenda è che questa roba del giornale la trovate identica anche sul Sole 24 Ore, dove c'è un'intervista al Ministro dell'Ambiente, e chiama questo aumento delle tasse i SAD. Sapete cosa sono i SAD? Sono i sussidi ambientalmente dannosi. E questa è la nuova parola d'ordine, i SAD. Fantastico l'acronomo, che dall'inglese ci porta l'idea di una cosa triste, i sussidi ambientalmente dannosi. Però c'è un piccolo elemento. L'80-85% di quello che voi pagate alla pompa è tasse. Le tasse che pagate alla pompa sul gasolio sono inferiori effettivamente a quelle che pagate sulla benzina, tant'è che in Italia il gasolio costa meno della benzina. Ma c'è un piccolo particolare, che quello non è un sussidio. Sono imposte invece che il 95%, dico a caso, della benzina, le tasse sul gasolio sono al 90%, quindi hanno un vantaggio fiscale che deriva da una tassazione inferiore. Quindi sapete che vogliamo fare? Per disincentivare, veramente, se volete disincentivare il gasolio, è facilissimo. Abbassate le tasse sulla benzina. Perché dobbiamo aumentare quelle sul gasolio e non abbassare quelle sulla benzina, se volete rendere più conveniente la benzina rispetto al gasolio? Perché dobbiamo alzare la marina invece che abbassarla? Ma questa cosa non è comprensibile, perché il punto fondamentale è che questi non vogliono né la benzina, né il petrolio, vogliono il monopatto elettrico fatto in Cina! Vogliono l'auto elettrica da 60.000 euro che non si possono permettere il 90% italiani. Solo lo 0,5% italiani può comprarsi una Tesla. Nella testa invece di questi, che vivono nel centro delle città e pensano che tutta l'Italia segue la roba là, ovviamente il gasolio, che schifo questi camionisti, anche se, come si chiama, Costa dice, ma in realtà poi noi li compenseremo dell'aumento delle tasse con incentivi verdi. Quindi noi al camionista che gli aumentiamo il gasolio non so che cosa gli diamo. Gli diamo un incentivo se usa il fotovoltaico a casa? Straordinaria, la completa scollegamento rispetto alla realtà. Fantastico, un pezzo oggi di Prodi, di Romano Prodi, che ci spiega che in America o vince Trump o vince Biden, c'è sul Mattino, c'è sul Messaggero, cambia poco nella politica estera rispetto ai cinesi. I cinesi gli hanno fatto a Trump una politica di dazi, commerciale, durissima, ma cambia relativamente meno rispetto al passato perché un tempo le esportazioni dei cinesi parevano il 35% del pil cinese. Oggi le esportazioni sono il 17% del pil cinese, cioè la metà del pil cinese. Quindi tutti questi dazi, tutte queste politiche commerciali che si è inventato Trump contro i cinesi sono meno efficace di un tempo. Nel frattempo, sul sole 24 ore, leggo che l'unico pil in crescita nel secondo trimestre è quello cinese. E sono il paese, cosa che ben sapevamo, che da questa vicenda che nasce proprio in Cina risulterà vincitore. Noi ci vediamo, come sempre, sul sito nicolaporro.it, seguitemi sul sito nicolaporro.it, chiedete le notifiche sul sito nicolaporro.it, mettetemi like se vi piace la mia pagina Facebook e su Instagram, e poi, come al solito, domani sera, a Quarta Repubblica, non mancatevi la prima serata. Ciao!